Sempre da Las Vegas, grande novità di Acer, tablet, un prodotto estremamente sottile, ottimamente rifinito, molto molto bello, ma soprattutto con uno schermo unico, il top della qualità in termini di schermo, in questa versione già con il nuovo sistema operativo Android, grandi performance per quanto riguarda tutto quanto concerne la grafica, possiamo vedere ad esempio la qualità in un gioco eccezionale, un tablet che diventa veramente una console portatile di gioco di altissimo livello, connettività sempre completa, sul lato una USB con cui si riesce anche a caricare il tablet e poi nascoste le varie porte tra cui anche l'HDMI e lo srottino chiaramente per poter fare l'espansione.